Aurora Ramazzotti dopo l'inglese passa al tedesco, la figlia di Michelle Unzi, che è Rederos Ramazzotti, sta studiando una nuova lingua e come confessa lei stessa sui social, nelle storie di Instagram, non senza difficoltà Comunque la vera notizia è questa Ho iniziato a fare le lezioni tedesco, per ora il mio livello è Hallo, ich heiße Aurora, ich bin 22 Jahre alt, ich spreche italienisch und ich werde Deutsch sprechen E basta Come si legge? 300, 700, 64 Ma è uno scherzo Nonostante il tedesco sia la lingua della mamma Michelle, Aurora si troverebbe ad un livello principiante ma non per questo demorde, anzi, la figlia di Eros ha tantissimi progetti per il futuro e vuole prepararsi al meglio a partire dalla conoscenza delle lingue straniere